Luigi Anzalone lancia la sua sfida e si candida a sindaco della città di Avellino. Questa mattina l'ufficializzazione del progetto che si rivolge in primis ai cittadini, poi a tutte le forze del centro-sinistra, compreso il PD. Al fianco di Anzalone, pronti a sostenerlo, ci sono il professore Giuliano Minichiello e il dottore Aldo D'Andrea. L'idea di Anzalone, filosofo, scrittore, politico e da sempre collocato a sinistra, è quella di presentare un programma per ridare ad Avellino la dignità di capoluogo. Va bene il dialogo con i partiti, dice, ma non sono disposto a partecipare ad eventuali primarie. Io non ho e non voglio avere truppe cammellate, clienti, paraninfi, familiari, famigli che a migliaia mi vadano a votare. Io sono promosso, bocciato, la mia lista è promossa e bocciata, l'aggregazione che riusciremo a creare è promossa e bocciata dal popolo sovrano. Abbiamo dato vita all'ipotesi di un progetto, lo voglio chiamare così, perché Avellino viva? Ecco, la nostra associazione, se faremo la lista, se non incontreremo troppi ostacoli e faremo la lista, si chiamerà Perché Avellino viva? Ma Avellino viva come? Come città civile, come amministrazione dello Stato, secondo le regole dello Stato diritto, della legalità, in cui sostituisce la regola del favore, quella del diritto del cittadino che a mio avviso favorisce di più il cittadino stesso. Avellino viva come città non più degli uffici ma capoluogo. Noi ci rivolgiamo a tutte le forze che vanno dall'estrema sinistra a centro e anche a personalità della stessa area moderata. Perché diciamocelo molto francamente, molto laicamente, ad Avellino il centro-sinistra è fallito, è fallito misteriamente, è fallito drammaticamente. A Fote per cinque anni hanno impedito di governare.